La cosa è semplice, io ho lavorato con Leo, sono andato all'ANAC perché mi ci portò AGE, le prime volte che mi trovo un po' alle balle però pensavo, ma se AGE viene qua, io ti sono, per dire che non ci porto, e quindi ci sono venuto e ci sono tornato. Ho insegnato in quasi tutte le scuole conosciute sul suolo italiano, a un certo punto mi siamo vinto, ma qua c'è la scuola di Leo, io in cui ho avuto la fortuna di lavorare, e questa scuola aveva un carattere differente dagli altri, che coincide chiaramente con l'idea che io ho dell'insegnamento della scienza, cioè allungare la scrivania, un po' più vecchio, con i capelli che avevamo 67 anni, uno titolino di 15, un po' più vecchio, a un certo punto scende da casa, vai in un posto, che diceva, vada, qui allungo il mio tavolo e qui insegno quel poco che io ho imparato di trucchi, di intelligenza, commentiamo insieme il giornale, commentiamo insieme la situazione politica. In più, dall'esperienza di insegnamento, soprattutto alla YUN e alla Master della YUN, al Master dell'Accademia dell'Arte Dramanica, io ho fatto l'Accademia dell'Arte Dramanica, hanno fatto scuole vicine, mi avevano segnalato un fatto. I ragazzi, oltre alle etiche che sono spesso esulte, in alcuni casi, hanno un grande problema. Chi non è di Roma deve vivere a Roma, chi non è di Milano deve vivere a Milano. Allora io gli ho detto, ma se noi facciamo due giorni in cui con un B&B, poi potremmo un'operazione, qualcuno uscirà la sera, con un giorno, con una notte, un ragazzo può venire e fare sei ore un giorno, sei ore l'altro, e il resto scrive, e in più siamo riusciti a trovarsi i generosi contributi di chi ci ha voluto sostenere, che sono il BIPAC, la SIAE e l'APA, siamo riusciti a fare, come faceva gli altri, una scuola gratuita, che garantirà gratuitamente a dieci studenti, massimo dodici, soprattutto una domenica o un'opera straordinaria, un insegnamento, credo, di ottimo livello, ed anche piuttosto moderno nella concessione del senso che avremo delle cose, per esempio, ho già parlato oggi, proprio con un capo strutturale, ci verrà a parlare a metà anno, quando cominceremo con i soggetti, ci parlerà del piano editoriale, ce ne farà uno vero o uno finto, cioè ci dirà, noi vogliamo questo, e noi che non sappia che cosa vuole la comitenza, perché se no diventa una cosa astratta che, diciamo io, sono piuttosto, è il contrario. Questa è più o meno l'idea, semplicissima, cioè, c'è dei saperi che vanno trasmessi dei contributi dei nostri, diciamo, sponsor, sostentori, ci permettono di farlo gratuitamente, e come faceva l'EO, noi proveremo a farlo, sperando di riuscire, già quest'anno, ma soprattutto il prossimo, a concludere l'anno con delle proposte da portare in giro sui tavoli veri, nel senso format e sceneggiamento. Nel senso che la scuola produrrà della roba, quindi si propone di essere un centro culturale, di produzione culturale giovane per questo anno. Grazie.